L'antigene è una molecola estranea all'organismo che può essere prodotta da un batterio o a un patogeno l'antigene viene fagocitato dalla cellula presentante l'antigene quindi a PC e una volta fagocitato viene digerito, per cui i vari frammenti derivanti dalla digestione dell'antigene vengono inglobati in una vescicola, in un'altra vescicola invece si ha la sintesi delle molecole del C di complesso maggiore di istocompatibilità che viene indicato con la sigla MHC. A questo punto, si ha la fusione dei due tipi di vescicole e i frammenti vanno a legarsi alle molecole di MHC, per cui si viene a formare un complesso che migra sulla membrana della cellula apici per poter essere riconosciuto dai linfociti T.